Prosegue la consegna degli appartamenti del Progetto Case qui a Sassa NSI, uno dei siti del Progetto Case. Vengono oggi consegnate otto palazzine per 196 alloggi, più o meno sono 5 o 600 persone a fare il loro ingresso nelle nuove case. Siamo contenti, finalmente ce l'abbiamo fatta. Come avete passato questi lunghi mesi? Noi siamo stati subito ad avversismo una settimana, dieci giorni massimi in macchina. Poi è il campo 2 di San Ciacomo che stava sudato vicino a casa mia. Qui scorrazzavano i cavalli, in 70 giorni c'è un nuovo quartiere, che difficoltà ha comportato? Parecchie difficoltà, però oggi a distanza di 70-75 giorni circa, quello che vedete è realtà. Si è iniziato verso la fine di luglio con la posa dalle prime pareti e dopo 70-75 giorni siamo arrivati alla consegna definitiva degli alloggi alle persone dell'Aquila. Ai 110 si aggiungono questi 196 alloggi classificati in classe A da Clima House proprio nei giorni scorsi. Sono poste le targhe sugli otto edifici anche qui a Sassa e questa certificazione attesta l'elevato livello di sostenibilità di quello che abbiamo costruito, soprattutto sotto il profilo del risparmio energetico. Come è stata l'accoglienza in questa nuova casa? Bene, grazie. Tutto a posto, abbiamo trovato una bella casa, sistemata piena di cose utili, va bene così insomma. Quanti siete? Quattro. Quindi due camere? Due camere, un soggiorno e due bagni.